Matteo Tassetti, capo progetto ADDA di Anastasis. Salve, buongiorno. Parliamo di ADDA, quali sono le funzioni di questo sistema? Allora, ADDA è uno strumento pensato e progettato per assistere il percorso diagnostico degli specialisti nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento. È stato sviluppato correntemente a quelle che sono le linee guida di settore, per cui prevede tre fasi principali per il percorso diagnostico. Quindi è una prima fase di raccolta di dati anamnestici, una seconda fase di valutazione, per cui tutto l'impianto testistico, e una terza fase di restituzione della relazione al paziente. In queste tre fasi, che sono quelle riconosciute come fondamentali dalla Consensus Conference, ADDA offre delle funzionalità che assistono ai vari passaggi. Per cui nella parte anamnestica, principalmente, l'assistenza deriva da delle inferenze che il sistema è in grado di compiere sulla base di dati della letteratura scientifica sui disturbi dell'apprendimento. Nella seconda fase, l'assistenza consiste principalmente in un vasto insieme di automazioni presenti nelle somministrazioni di test. Per quello che riguarda la restituzione della relazione, il sistema è in grado di raccogliere tutti i dati che vengono inseriti e di formalizzarli in un documento ben preciso che riporta tutto l'iter diagnostico fino al dettaglio delle valutazioni. Quanto tempo ci si mette per imparare ad utilizzare ADDA? Uno degli obiettivi principali che abbiamo perseguito nello sviluppare ADDA è stato quello di lavorare sull'usabilità. L'usabilità del software riteniamo che sia un elemento centrale, sicuramente per qualsiasi tipo di applicazione, in particolare per lavorare su domini dove generalmente le competenze informatiche non sempre sono acquisite in maniera importante. Per cui di fatto ADDA è un'applicazione web per cui qualsiasi utente medio, mediamente informatizzato, è in grado di utilizzarla con una semplice sessione di formazione che diciamo serve più che altro ad illustrare le varie sezioni dell'applicazione, per cui l'utilizzo risulta piuttosto semplice. Ecco, e lascia spazio anche alle osservazioni occasionali del clinico? Allora, ADDA prevede una raccolta molto strutturata di dati, questo per il duplice vantaggio intanto di avere degli elementi di confronto tra i vari operatori e professionisti che operano nel settore e come elemento non certo trascurabile anche la possibilità in seguito di fare delle indagini statistiche sui dati raccolti. Questo non toglie che ovviamente noi abbiamo ritenuto indispensabile l'apporto invece più diciamo soggettivo del clinico, per cui in tutti i vari passaggi di ADDA è sempre possibile inserire dei campi, delle annotazioni, delle osservazioni attraverso dei campi note a tutti i livelli dell'applicazione. Quali sono gli aspetti che distinguono la versione 2.0 dalla precedente? La versione 2.0 sicuramente si differenzia rispetto alla precedente per tutta la parte di valutazione, infatti l'accordo intercorso tra Anastasis e GiuntiOS relativamente ai diritti sui test ci consente di andare a sviluppare in maniera dettagliata la somministrazione di vari test, agevolando tutto quello che riguarda il calcolo automatizzato di punteggi, per cui la conversione da punteggi grezzi, in poche parole a punteggi standardizzati e tutta una serie di caratteristiche che vanno a migliorare sia l'efficienza, per cui la velocità diciamo di somministrazione delle prove, sia anche l'efficacia in quanto il fatto che questi calcoli vengono automatizzati ovviamente previene anche il fatto che il clinico possa compiere degli errori che sono ovviamente fisiologici nel compiere questi calcoli, queste conversioni di punteggio. Ecco, noi abbiamo parlato di raccolta di dati, sono naturalmente dati sensibili, quindi mi viene da chiedere da un punto di vista della garanzia, che cosa offre ADDA? Allora, chiaramente ADDA rispetta tutte le normative vigenti in materia di dati di protezione della privacy e di conservazione di dati sensibili, questo è un tema importantissimo per cui ci siamo adoperati nell'utilizzo di tutte le più moderne tecnologie informatiche, sia per prevenire eventuali intrusioni nei nostri sistemi, sia attraverso la protezione dei dati che transitano tra i server e le postazioni dei vari utenti. I prossimi sviluppi di ADDA? Allora, i prossimi sviluppi di ADDA sicuramente riguarderanno l'implementazione di nuovi test, infatti la possibilità di lavorare insieme ai nostri partner di GiuntiOS ci mette in condizione di avere un campo vastissimo di sviluppi futuri. Diciamo, distinguiamo due sviluppi principalmente, cioè due filoni di sviluppo, uno legato all'introduzione di nuovi test, uno legato invece a quello che sarà l'aggiornamento costante delle letterature che saranno ovviamente mantenute sempre coerenti con le ultime edizioni di GiuntiOS. Infine, in cosa consiste la tecnologia serena? Allora, la tecnologia serena è la base informatica su cui è stato costruito ADDA, quello che noi informatici in gergo chiamiamo un framework di sviluppo, è stato sviluppato all'interno della nostra cooperativa, è un framework open source, per cui costituisce una base interessante e flessibile per lo sviluppo di applicazioni in rete, in particolare applicazioni nell'ambito della cartella clinica socio-sanitaria. ADDA ricade appieno in questo nostro modello e può beneficiare di tutte le evoluzioni di questa piattaforma.